Come se ci vuoi fare un po' di bodyguard? E' un po' di bodyguard! No 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 no! Eh no, ma che genere di bodyguard sei altrimenti? Vedi cosa facciamo con il nostro bodyguard? Yeah! 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 Ah! 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 No 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 no! No! Oh my god! The old dog's bodyguard are a bit too wild! E' il bodyguard? E' perché io ho fatto niente? Yeah! What kind of bodyguard are you? To protect me from your dog! Ma vale un po'. E gli occhiali del bodyguard? Eh no! Me li metto io! Ah! Ok! No! E' il corpo che c'è! Ma...